Buongiorno a tutti, sono Barbara Balconi e sono una ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Realizzo questo video anche a nome dei colleghi, la professoressa Elisabetta Nigris, la professoressa Luisa Zecca, il professor Tommaso Monestiroli, per descrivere quanto è stato realizzato dall'Unità di Bicocca all'interno dell'azione prevista dal progetto dal titolo Montessori a Milano Oggi. Il fenomeno della sempre maggiore diffusione del metodo montessoriano nella scuola pubblica apre nuovi scenari istituzionali, organizzativi e didattici che meritano un'attenzione particolare, richiedendo di interrogarsi su come il metodo possa riconfigurarsi all'interno della società contemporanea, sia per quanto riguarda l'integrazione del metodo nel più ampio complesso sistema della scuola pubblica, sia relativamente all'adozione del metodo stesso in altri ordini di scuola, come ad esempio quello della secondaria di primo grado. La provincia di Milano costituisce, da questo punto di vista, un osservatorio privilegiato di questo fenomeno. È proprio nel territorio milanese che si è costituita infatti una rete di scopo di scuole pubbliche, avente come capofila l'istituto comprensivo Riccardo Massa, che oltre ad aver adottato l'approccio educativo e didattico montessoriano all'interno della scuola primaria, ha avviato una sperimentazione che investe anche la scuola secondaria di primo grado rispetto all'adozione del metodo. Nello specifico, la rete di scopo è composta appunto da quattro istituti comprensivi, l'istituto comprensivo Riccardo Massa, che è l'istituto comprensivo capofila, l'istituto comprensivo Ilaria Alpi di Milano, l'istituto comprensivo Arcadia di Milano e l'istituto comprensivo Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. L'attività del gruppo di ricerca si inserisce all'interno del progetto di monitoraggio della sperimentazione dell'indirizzo montessori nella scuola pubblica secondaria di primo grado, al fine di verificare da un lato la possibilità stessa di trasferire il metodo montessori nel segmento della scuola secondaria di primo grado, dall'altra di identificare gli aspetti maggiormente caratterizzanti l'applicazione del metodo all'interno di questo segmento di scuola. Le azioni di monitoraggio che si sono condotte fino ad ora possono essere raggruppate principalmente all'interno di tre fasi. La prima fase ha previsto il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi coinvolti. I dirigenti sono stati coinvolti tramite la realizzazione di focus group e di interviste che avevano appunto l'obiettivo di definire le singole azioni da intraprendere nei diversi istituti comprensivi. Con i dirigenti è stata condivisa la struttura dell'equip di ricerca ed è stata individuata una prima selezione di temi e di questioni caratterizzanti la sperimentazione. La seconda fase invece è stata dedicata all'ascolto della voce dei docenti. Sono stati realizzati in questo caso dei focus group con i gruppi di docenti dei quattro diversi istituti comprensivi coinvolti e inoltre sono stati raccolti dei materiali didattici tramite l'osservazione carta matita della pratica didattica d'aula e le documentazioni didattiche fornite dai docenti. L'obiettivo era quello appunto di individuare e di approfondire le peculiarità delle singole sperimentazioni all'interno dei quattro contesti. La terza fase ha previsto un confronto dei materiali e delle evidenze raccolte e una prima condivisione con i dirigenti dei risultati del monitoraggio. A partire da questo confronto iniziale sono state individuate alcune macro aree trasversali ai quattro istituti sulle quali è in corso di svolgimento un ulteriore approfondimento qualitativo. Proverò ora ad elencare i principali fattori educativi e didattici organizzati in tre differenti ambiti che qualificano la sperimentazione all'interno degli istituti comprensivi coinvolti. La prima area evidenziabile riguarda il rapporto degli studenti con l'apprendimento è proprio dall'analisi dei dati raccolti tramite le osservazioni condotte nelle classi e la documentazione delle pratiche didattiche che si evidenzia una caratterizzazione interdisciplinare e laboratoriale del processo di insegnamento e apprendimento. Sembra proprio si può rilevare una crescente autonomia di pensiero e di organizzazione del lavoro da parte degli studenti che li porta spesso ad interrogarsi con consapevolezza rispetto al proprio processo di apprendimento per come si sta realizzando. Il secondo ambito riguarda il rapporto degli studenti con l'istituzione scolastica. Dall'analisi dei dati dei focus group e la comparazione con le evidenze raccolte durante le osservazioni mostrano un'attenzione diffusa da parte degli studenti nel prendersi cura dei materiali degli spazi scolastici. La presenza più in generale di un senso di appartenenza alla comunità scolastica che si traduce proprio nei termini di un'attenzione, di una cura molto fisica legata ad ambienti, spazi e arredi. È proprio questa riflessione legata agli spazi e al modo di abitarli degli studenti che potrà essere approfondita negli sviluppi futuri del progetto anche rispetto alla progettazione e alla costruzione di un nuovo polo scolastico sempre all'interno della provincia di Milano che comprenderà un plesso di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda l'ultimo ambito evidenziato riguarda più specificatamente i docenti e riguarda appunto lo sviluppo di una professionalità collaborativa da parte del corpo docenti. Nei quattro contesti scolastici coinvolti infatti è stata evidenziata a partire dalle considerazioni che i docenti hanno fatto nei corsi dei focus group una positiva modalità di lavoro collegiale e collaborativo appunto da parte dei docenti. La qualità del lavoro d'equip e la progettazione congiunta delle attività didattiche è stata sottolineata dai docenti come elemento caratterizzante la sperimentazione e al contempo come aspetto di notevole differenza rispetto a modalità di lavoro precedentemente messa in atto. Tuttavia sono i docenti stessi ad evidenziare la necessità di ricevere un supporto professionale continuativo soprattutto all'interno dei lavori di equip di modo da poter accompagnare con maggiore efficacia questo cambiamento didattico richiesto dalla sperimentazione e tuttavia questo accompagnamento richiesto potrebbe in parte anche arginare il problema del turnover dei docenti. Durante il periodo dell'emergenza covid la situazione sanitaria non ha consentito l'accesso agli istituti scolastici. Si è tuttavia sviluppato con le scuole un interessante dialogo sulla possibilità di adattare il metodo alle necessità della didattica a distanza. Questi sono i principali risultati emersi come vi accennavo prima sono comunque in corso ulteriori approfondimenti qualitativi specialmente per andare ad esplorare e a declinare in modo più specifico le tre aree individuate come trasversali delle sperimentazioni realizzate all'interno dei quattro istituti comprensivi. La mia presentazione si conclude e vi ringrazio per l'attenzione.